Questa cucciolina deliziosa si chiama Lorelai. Lorelai è un'orfanella, è stata trovata in campagna ginosa in un posto dove sono soliti abbandonare i cani perché è un posto frequentato da persone che vanno a fare jogging ed è stata raccolta da una ragazza sensibile che l'ha tenuta per un po' di giorni con sé e poi l'ha portata qui in canile. La piccola è stata messa in un box dove c'erano già altre due maremmanine poco poco più piccoline di lei come età, questione di giorni di differenza. Lorelai è arrivata con i forasacchi nelle orecchie, povera cucciola. Ha sofferto perché i forasacchi danno tanto dolore e oltretutto sono pericolosissimi ma siamo riusciti a risolvere estraendoli dalle orecchie. Lei ha fatto una terapia e adesso sta bene. La piccola Lorelai è arrivata due mesi e mezzo abbondanti ed è il momento di proporla in adozione questo amore di cucciola. Non può restare in canile, è troppo dolce, troppo bella e al momento ha un ottimo carattere, è abituata alle persone quindi è chiaro che è stata abbandonata da qualcuno, non è stata partorita in natura. Qualcuno l'ha presa inizialmente e poi ha capito di non poterla tenere. In questo tempo la piccola si è affezionata al suo aguzzino e adesso è fiduciosa verso le persone. Non dobbiamo permettere che il suo carattere si sciupi a forza di restare qui in canile dove non ci sono stimoli, non ci sono volontari che giocano con i piccoli e quindi dobbiamo fare di tutto per farla adottare. Piccola Lorelai, vedrai, vedrai che ti sceglieranno perché sei troppo bella. Lorelai è color crema, una maremmanina color crema, non bianchissima. È deliziosa. Buona fortuna piccolina, fa caldissimo oggi. Ciao piccolina. Ciao.